Racconto d'arte ben ritrovati a questo nostro nuovo appuntamento con l'approfondimento della storia dell'arte. Quest'oggi verchiamo i confini italiani perché parliamo di Vasili Vasilevic Kandinsky, nato a Mosca il 16 dicembre del 1896 e morto a Nelluis Yursen il 13 dicembre del 1944. E' stato un pittore russo naturalizzato francese e anche germanizzato come Vasili Kandinsky, precursore e fondatore della pittura astratta. L'opera che abbiamo scelto di approfondire quest'oggi insieme a voi è Swinging. Swinging si tratta in realtà di un dipinto che risale all'anno di pubblicazione di un importante esaggio teorico del maestro russo, è datato 1925 ed è un olio su tavola che misura 70 x 50 cm. Attualmente si trova esposto alla Tate Modern di Londra. Ma veniamo alla descrizione di quest'opera che vedete alle mie spalle. Si tratta di una composizione di diverse figure geometriche piane che si configurano in una composizione astratta. La struttura principale di maggiori dimensioni si trova sulla sinistra dell'osservatore dell'opera e poi vi sono forme circolari, semicircolari, triangolari e quadrangolari che si uniscono in una struttura che ovviamente ha una forma piramidale compresa all'interno di un triangolo irregolare. In prossimità dell'angolo superiore sinistro vi è poi un rettangolo scuro orientato in verticale che contiene alcune linee ondulate gialle disposte in parallelo. A destra verso l'alto invece abbiamo un grande triangolo che punta verso il basso e intorno a lui tre grandi dischi colorati e poi a destra accanto al bordo del dipinto vi è una retta nera che incrocia due segmenti orizzontali. Su uno di essi si trovano due forme apparentesi somiglianti a corni di animale e poi infine in alto sopra la linea nera vi è un rettangolo composto da fasce colorate ma anche alternate. Questa è un po' quella che è la descrizione di quest'opera che potete appunto ammirare come detto alle mie spalle ma veniamo adesso allo stile utilizzato in quest'opera dall'artista. Ecco l'artista in seguito alla sua adesione alle sperimentazioni espressioniste elaborò progressivamente un linguaggio che può definirsi astratto. Suo è infatti il primo acquerello astratto datato 1910. Ecco lui era un musicista oltre che un pittore e fondò il suo astrattismo su un rigoroso impianto teorico formale e cromatico. Lui formalmente adottò alcune composizioni formate da figure piane semplici ma cromaticamente invece applicò la sua teoria basandosi sulle ricerche pubblicate nel saggio Lo spirituale dell'arte. Ecco lui diciamo che per quanto riguarda i colori ovviamente ne sceglie uno di fondo che è un colore spento che tende al grigio però esalta i colori brillanti delle forme geometriche. Infatti si intravedono aloni di colore chiaro che si integrano con le forme in primo piano e nella struttura principale si trovano alcuni colori accesi, colori primari e secondari che sembrano organizzati proprio intorno a quelle forme che sono di colore nero. In basso è molto evidente anche una forma semicircolare di colore rosa che poggia contro un rettangolo irregolare formato da moduli più piccoli e diversamente colorati fra loro e poi nella parte superiore della struttura il rosso incornicia il profilo di destra e colora uno dei dischi che è sovrapposto a sinistra. Infine in alto invece domina un triangolo di color ocra che include un altro triangolo che però è di colore grigio. Ecco lui riesce a organizzare questa composizione secondo i principi del suo linguaggio figurativo equilibrando le masse riuscendo anche a creare i contrasti utili al suo ordine compositivo. Lui riesce infatti ad accostare toni scuri e toni chiari caldi e freddi saturi e brillanti in maniera tale da evidenziare le forme geometriche e a sua volta farle interagire tra loro. Per quanto riguarda lo spazio sicuramente la spazialità che emerge dal dipinto è di tipo bidimensionale perché è determinata dalla composizione sul piano di figure geometriche. Infatti lui nell'utilizzo del linguaggio astratto non riproduce, non sente la necessità di riprodurre la tridimensionalità della realtà. Quindi non applica le regole tradizionali per una rappresentazione prospettica classica. Ovviamente c'è anche da dire che lui riesce attraverso l'utilizzo dei colori a far comprendere all'osservatore i vari piani, cioè un effetto di avanzamento o arretramento a seconda della figura geometrica che si guarda ovviamente del colore. Quindi vi è un'interazione spaziale la cui profondità è data proprio dall'effetto della composizione cromatica delle varie forme geometriche. Per quanto riguarda infine la composizione dell'inquadratura ovviamente si tratta di un dipinto di forma rettangolare che è sviluppato in verticale, quindi l'inquadratura a seconda la composizione astratta che comprende la struttura principale che è di forma triangolare e le varie forme geometriche sono disposte in prossimità dei bordi delle figure. E poi lo scheletro compositivo è sicuramente rappresentato da una serie di triangoli a partire da quello intuibile che racchiude la massa più importante e poi i segmenti di rette disposti in maniera ortogonale e le figure collegate da direttrici obliquo ovviamente confluiscono in un maggiore dinamismo agli occhi dell'osservatore. Era questo l'ultimo dettaglio di quest'opera di Kandinsky, io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione e vi do appuntamento alla prossima puntata di Racconto d'Arte.